C'è un faligname, buono però, un faligname che va a essere buono. San Giuseppe avevamo fatto lavaggio al topovaglio, non avevamo fatto faligname. Porto il nome di Giuseppe, ma faligname non avevamo fatto. Maggio avevamo un faligname. Porto il nome di Giuseppe? Si. Però lo chiamiamo San Giuseppe. Si, San Giuseppe è un pochino, lo chiamiamo Poppino. Allora lo chiamiamo Poppino, il famigliame. Hai visto fare un buon faligname? No, se l'avevo insegnato. Si dicemo, che vuoi fare un buon faligname? Un faligname buono però. D'occhio. D'occhio. Qualcuno che conosce un faligname bravissimo, ma proprio bravissimo. Ma si può sapere che vuoi fare questo faligname che mi sta mangiando guaglio stasera? Ma è fare fare un tavolino che ci porta a Baccellona. Poi. Quando fanno consigli, che non sanno poco che hanno a fare, che dicono sempre che hanno a fare un tavolo tecnico per gli aprire a Bradella. Un tavolo tecnico può fare a Bradella. L'hanno fatto anche 4-5 volte questo tavolo tecnico e sempre fanno un tavolo tecnico. Sapete che un tavolino si spascia che non è fatto buono? Ma l'ha fatto sul diaro allora. Perciò mi serve a me un faligname, lo faccio io, che mi faccio un tavolino bello sostanzioso, a me non fanno una volta sola un tavolo tecnico e gli apri una Bradella di Calderà. Perché io gli dico al malazzo. Capiste? Ecco. Ho detto tutto. Se scano usciti un faligname buono dici del mille. Speravo poi non sentivano due niente. Perché se sentivano cosa fanno non ci pare qualcosa. Ma se signor Antuna, tavolo tecnico significa che si andano a riunire i tecnici, non che si andano a sentire lo tavolo che ha scritto tecnico. Ma se dicono sempre la prima parola io, tavolo, tavolo. Questo tavolo si spascia che sempre fanno. E quindi tu significa che da quant'è c'è un problema da Bradella, la tua ammalazza non ci fanno. No, io non ci fanno ammalazzo proprio. Perché mi sentivo di fare un giro di caramandola. Hai visto l'autostrada? No, non c'è anche se parla l'autostrada io. Chiedo scusa ai follomini, ma questi due parlano così tanto che i messaggi più vecchi Facebook me li cancelli non li posso leggere più. Quindi ci sta dicendo che stai rubando delle cose importanti. Stai rubando quando parla. Un bel po' di messaggi sono stati cancellati. Leggi qualche cosa, per favore. Parla Mazzeo.